Un posto al sole, nelle nuove puntate potrebbe scoprire che Susanna era incinta. Si tornerà a parlare di Susanna in Un posto al sole, nel corso delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre su Rai 3. Già, perché la vicenda che la riguarda e che l'ha vista perdere la vita per colpa di Valsano tornerà a essere trattata nelle trame di Upas. Tutto inizierà quando una notizia su Susanna si abbatterà come un ciclone su Nico e la sua famiglia. Ciò che verrà a Gala scatenerà una spirale di rabbia e frustrazione e qualcuno deciderà di non starsene con le mani in mano. Dopo la perdita della sua Susanna, che aveva sposato in ospedale con la speranza di passare la vita con lei, Nico non riesce a riprendersi. Nemmeno la vicinanza e l'amore di Jimmy alleviano il suo dolore. Ora però c'è Manuela, disposta a tutto pur di tornare con Nico e provare a fargli voltare pagina con il suo amore. Nonostante la sua dolcezza, Nico non è ancora pronto a dimenticare Susanna e ha cercato con delicatezza di allontanare la sua ex che... Tuttavia, non ha intenzione di arrendersi. Qualcosa, però, è pronto a sconvolgere ogni equilibrio. Come svelano le anticipazioni di Imposto al Sole, Nico sarà sconvolto da una notizia su Susanna. Ciò che si scoprirà riempirà di dolore e di rabbia anche i familiari della giovane Piccardi. Sui social si sono moltiplicate le ipotesi riguardo la notizia che verrà svelata sulla povera Piccardi. Senza dubbio deve essere qualcosa di molto grave, dato che Nico e la famiglia di Susanna saranno sconvolti e arrabbiati. Ma non solo, qualcuno le anticipazioni non rivelano ancora a chi deciderà di non stare con le mani in mano. Tra le teorie che i fan di Imposto al Sole hanno preso in considerazione, ne spicca una in particolare. Secondo molti telespettatori, si verrà a sapere che Susanna, prima di perdere la vita per colpa di Valsano, era incinta di Nico. Un retroscena tragico e drammatico che darebbe il colpo di grazia al giovane avvocato. C'è anche chi ha ipotizzato che Susanna non sia davvero passata a miglior vita ma che sia stata nascosta per sfuggire agli uomini di Lello. Ipotesi che, tuttavia, ci sembra alquanto suggestiva e improbabile, dato che è stato celebrato il funerale e la stessa attrice che presta al volto a Susanna, Agnese Lorenzini, ha confermato l'addio del suo personaggio. Dunque, che cosa scoprirà Nico sulla sua povera moglie? Susanna era incinta prima di perdere tragicamente la vita? Questa ipotesi non è affatto da escludere. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per risolvere questo nuovo mistero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.